Salve! Il marketing digitale fornisce agli utenti risultati tangibili. Positivi o negativi comunque saranno tangibili, perché sul web ogni azione è tracciata, registrata, con software di analisi o di marketing automatico. Ma tutti questi numeri, secondo me, rischiano di farci allontanare dal fattore umano, da un marketing che parla al cuore. Ed è il fattore umano che fa sentire un cliente speciale, non un autorisponditore. Come fare un marketing digitale più umano che crea connessione emozionale con il pubblico? Io ho quattro idee. In primis, avvalersi di bravi social media manager, capaci con un commento personalizzato, sensibile, di sorprendere e non far sentire il cliente come un numero. Usare anche il telefono per relazionarsi con qualche follower speciale. Gary Warnacek, star dei social media americana, racconta che lo fa spesso, prende il telefono e chiama. Questi sono professionisti che hanno digital soft skills. Sono abilità di un professionista che non necessariamente ha studiato statistica o informatica, ma magari scienze umane, come storia. A conferma, ho letto che l'impresa di risorse umane Page Personnel sta cercando in Brasile dei filosofi per interpretare il grande volume dei big data. Secondo, fare storytelling. Il termine di moda è un po' abusato, non vuol dire raccontare storie, che può sembrare anche dire balle. Storytelling è narrare, creare simulazioni del reale, creare universi narrativi in linea con i valori di un'azienda. È una connessione emozionale, perché abbiamo l'istinto a narrare, a raccontare. Le storie ci hanno reso umani. Io, tu, non sei quello che dici, sei come lo racconti. E questo vale anche per un'azienda. Oggi software possono anche raccontare una storia cronologica, ma non sanno narrare. Terzo, fare inbound marketing. Creando contenuti di valore che insegnino. Mi piace la frase di Guy Kawasaki. Se hai più soldi che cervello, puoi concentrarti sull'outbound marketing, che è la pubblicità classica di interruzione. Se hai più cervello che soldi, concentrati sull'inbound marketing. Io penso che se creiamo contenuti col cervello, creeremo anche riconoscimento e connessione umana. Quarto e ultimo, chi comunica in social networks ha l'importanza delle immagini. Nelle immagini consiglio di usare spesso dei volti umani. Una faccia ci rassicura, persino la mia. Siamo configurati a dare attenzione alla forma della faccia, sin dalla pre-storia. Oggi il maggior social network si chiama Facebook. È un caso. Cerchiamo allora di usare fotografi bravi a narrare con le persone, con le facce, con le espressioni del corpo. E pensiamo al video. Questa connessione emozionale si può ancora più ampliare. Nel video c'è la voce, con tonalità, pause, sfumature. Nel video c'è lo sviluppo del linguaggio corporale, che restituisce sensazioni, a cui spesso diamo più importanza che il contenuto audio. E poi c'è il movimento nel video e nel nostro DNA dare attenzione al movimento. Riassumendo, nel marketing digitale sarà strategico valorizzare di più l'elemento umano per creare interazioni credibili e per interpretare i dati. Io spero di aver dato spunti di riflessione. Ci vediamo qui, su FromLoo.com